La riforma cambia 47 articoli della Costituzione e unita a una nuova legge elettorale modifica di fatto la forma di governo di questo Paese. Noi abbiamo un sistema parlamentare che era nato dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui le due Camere servivano proprio a questo e cioè a evitare un rafforzamento eccessivo dell'esecutivo. Noi uscivamo da esperienze dittatoriali difficili, noi abbiamo fatto una scelta di moderazione, di compromesso rendendo il Parlamento come il centro del sistema governativo e di democrazia del nostro Paese. Oggi cosa accade? Oggi noi riduciamo il Senato a una Camera di secondo grado che non vota più la fiducia al Governo, ridotta come numero a 100 senatori, ma manteniamo immutato il numero dei deputati, quindi una Camera enorme di 630 membri, in cui in relazione all'Italicum e quindi in relazione alle soglie elettorali ivi previste, noi abbiamo la possibilità che un singolo partito che sia estrema minoranza nel Paese possa avere il 55% dei deputati e in relazione alla riforma costituzionale, e quindi a un Senato che ormai non ha funzioni, possa determinare in maniera netta, decisa, ogni meccanismo di garanzia costituzionale del Paese, partendo dall'elezione del Presidente della Repubblica, finendo alla nomina dei giudici costituzionali.